Se varietà deve essere varietà sia cinema che follia con Daniele Formica, Iris Peinado, Maurizio Micheli, Cristian De Sica, Sergio Rubini, Paola Tiziana Cruciani, Rodolfo Laganà, Gli Specchio, Massimo Avertmuller, Bruno Maccallini e le starletta Francesca, Jimmy Rossella. Eder Parisi rievocherà il mito di Marilyn Monroe. Carlo Verzone sarà un ospite davvero straordinario. Una rivista senza precedenti e con molte conseguenze garantisce la regia di Antonello Falco. Cinema che follia, domenica 20.30, Rai 2.